la disposizione della corda ecco la sull'altra capito? prima l'ho messa a mia male stop e riparti si si vai vai adesso sto ripartendo vai ok quando vai pronto è troppo una figata ma se avessi scoperto che era così bello cercavo di allagarlo prima questo posto stai filmando? si allora procedura di sicurezza una munizione alla volta canna libera sono aperto no they make you ready io sono pronto pronto scusi ci faccio vedere la sua faccetta contenta grazie guarda che sta andando indietro che spettacolo non ha fatto una piega 2 2 pronto per fuoco? pronto oh che buon indietro è bellissimo E' una cosa troppo bella. Allora, colpo in asse, ok? Arma a scarica. Ok, a posto, quando vuoi. Cinque colpi. Pronto a fare fuoco? Pronto. Una scarica. Kayak in movimento. Kayak in movimento. E' bellissimo. Adesso potrei smettere di pagaiare, basta che continui a sparare. Arma a scarica. Ma è bellissimo. Che spettacolo. Quando vuoi. Arma a scarica. Davide il mio colpi. Prezzo per fuoco. Pronto. Sentono questi? Si. Ok. 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 Grazie a tutti.